allora questo qui è un altoparlante bluetooth portatile della 4k mini speaker wireless con bluetooth 4 a uscita aux funzione fm la radio microfono e si può mettere anche microscheda si può utilizzare anche come altoparlante quando riceviamo la chiamata arriva al cavetto usb micro usb per caricare libretto di istruzioni d'uso che molto semplice allora è tutto fatto in ferro bello pesante grandezza vedete sta benissimo nella mia mano sotto c'è una plastica che si toglie che poi per antiscivolo ha fatto molto bene molto carino allora qui si mette la scheda micro usb per la scheda di memoria poi qua si mette micro usb per caricare e qua abbiamo bottoni avanti indietro volume e pause allora quando si accende si accende qua c'è avviso di connessione che si connette subito e il volume canzone musica è così come potete sentire il volume è molto alto i bassi sono veramente belli quindi che dire io ve lo consiglio vivamente è un prodotto veramente bello bello solido quindi buon acquisto ciao